Perché esiste il detto Dio salvi la regina? Perché quando la regina si salvava sempre era perché Foti era amico di Moggi, poi Luciano è stato squalificato e allora Foti va sempre in chiesa e dice Dio salvi la regina, questo è un detto che del 48 quando al baccappalletto la regina Elisabetta diede alla luce il principe Carlo e allora l'ostetrica lo guardò in faccia e disse Dio salvi la regina.